Salve amici, oggi faremo un bel percorso. Saliremo dal famoso sentiero dei Limoni che parte da Maiori ed arriva a Minori. Da lì, attraverso dei terrazzamenti, delle mulattie, saliremo a Ravello, città della musica, città dei concerti di musica classica, dove visiteremo Villa Rufola. Da lì cercheremo di arrivare attraverso un percorso stradale a Pontone, dal quale ci addentreremo nella riserva della Valle delle Ferriere. Arriveremo poi ad Amalfi, dove abbiamo concluso la nostra escursione. Un bel bagno ci aspetterà e un bel traghetto che ci riporti a casa. Ci darà ancora la possibilità di poter vedere la costiera Amalfitana e l'Albania. Bel giretto, venite con me. Grazie a tutti. 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 Grazie per la visione!